Musica Buonas tardes a tutti e grazie per accompagnarci in questo atto speciale, come è approfittare un entorno privilegiato come è il del Baluarte, per ascoltare alcune voce molto finissime, alcune voce molto ricomendabili e che sicuramente ci saranno a incantare con questo concerto che ci saranno a fare in questa tarda di oggi. La verità è che abbiamo l'opportunità, hace un'espazione, di disfrutarla di musica e vediamo ora il spettacolo di la voce corale in questo entorno privilegiato del Baluarte. Animarles a che continuate a fare lo miglioro di voi, tanto a loro come al resto di coros che in nostra città, ci saranno continuamente con diverse attività e un forte applauso per loro. Grazie a tutti, con la subdirectora, con Consuelo, che ci saranno a animare questi minuti in una maniera che non olvidatevi. Grazie per accompagnarci. Grazie. 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 Sina costura, vallao, ciao!